Sì, senza ombra di dubbi andrebbe a una persona nera a dire che c'è il calzo, più l'unico. Come andrebbe a una persona trans a dire che c'è il calzo, se mi rendo conto che non ne sanno il significato, come in questo caso. Questo è uno dei vari toktik che mi è capitato di vedere in cui viene detto che le persone nere devono morire. Sono s. Io non sono maschio eterosessuale, sono gay, trans, mulatto, bianco, mofoba. E il dibattito che è stato fatto su toktik, in parallelo a quello della transphobia, no, on. Viva il luce. Vinceremo! E vinceremo! Ma questo è un altro discorso, rio cane, viva c'è su. Può darti fastidio, ma nella lingua italiana c'è su e-gain. Il rio cane è usato come insulto per fare riferimento a una donna trans. Io non sono politicamente corretto, che ti piaccia o no, che a secondi la tua ideologia oppure no, le parole hanno un loro significato. Oh, like. Solo perché sei trans e solo perché ciò che ha detto una persona ti ha offeso, non significa che quella persona sia il luce. E solo perché ti sei offesa, non significa che tu abbia il calzo. Ciao!